la sigla oggi mi fa anche male perché se tossisco mi fa ancora male tutta la spalla buonasera e tanto che non faccio un video sulla playlist creature e quindi oggi parlo di una creatura della mitologia del folklore asiatico in generale io la descrivo dal punto di vista cinese ma esiste anche una versione thailandese una versione vietnamita una versione coreana una versione giapponese questo perché perché io sono più ferrata nella mitologia cinese ma differenziano di pochissimo anche come nome è relativamente simile questa creatura si chiama giang chi che cos'è un giang chi è un miscuglio tra un vampiro energetico però è una sorta di zombie nel senso che la mitologia cinese la mitologia asiatica conferiva alla nascita di un giang chi quindi alcune caratteristiche dovute a accadimenti su un essere umano o sul proprio corpo secondo la mitologia cinese appunto ogni corpo vivente umano possiede al suo interno 3 nem e 7 po i nem sono le parti le tre parti dell'anima sempre secondo la mitologia antica asiatica che hanno raziocinio che sono buone che hanno la coscienza che sanno utilizzare la coscienza l'intelligenza e tutte le altre doti intese come capacità buone ed elevate della persona stessa mentre i 7 po potremmo quasi un po identificarli come i nostri sette peccati capitali cioè sette parti di anima umana che però tendono a non essere benevole questi 3 nem e 7 po sarebbero la congiunzione totale dell'intera anima umana quindi sarebbero tutti i pezzi della nostra anima e li avremmo tutti indistintamente ma appunto sempre secondo i dettagli mitologici asiatici e ci tengo a sottolinearlo perché è mera mitologia in questo caso che non ha collegamenti con qualcosa di reale è molto molto inventata sta cosa o comunque supposta dagli antichi che non riuscivano a comprendere come mai ci fossero dei lati positivi e dei lati negativi in ogni persona da lì quest'ipotesi ma siccome anche in tempi antichi i lati positivi erano comunque inferiori nell'essere umano rispetto ai lati negativi si identificò come metrica di racconto i tre nem contro i sette po appunto la spiegazione diciamo mitologica sempre per quanto riguarda la leggenda di questo tipo di creature era che a volte poteva succedere che ne nella fuoriuscita dell'anima da un corpo qualsiasi al momento del decesso qualcuno dei sette po rimanesse casualmente all'interno del corpo mentre gli altri uscivano tutti insieme questo comportava che quel po prendeva pieno possesso di quel corpo riducendolo però a uno stato quasi zombale cioè uno stato proprio di apparenza come se fosse uno zombie non capace di raziocinio incapace di provare sentimenti di qualsiasi tipo che riguardassero l'affetto la bontà l'amore o semplicemente la coscienza in sé ma mirato solo al suo vizio estremo dico vizio per comprenderci al suo negativo quindi ora io per farvi capire perché i dettami sono diversi a livello asiatico ma per farvi comprendere se facciamo l'esempio con i nostri sette peccati capitali mettendo come esempio sempre che i po siano collegati alla lussuria all'ingordigia all'acidia alla vanità e via dicendo per esempio il po dell'ingordigia creerà una sorta di zombie che penserà solamente ad ingozzarsi questi po però così come anche i nem in senso positivo vengono alimentati all'interno della nostra anima stessa dall'energia primordiale dall'energia interiore l'energia che noi sappiamo scorrere attraverso i 144 chakra attraverso i sette meridiani principali e via dicendo in asia questa energia viene definita ci queste parti di anima chiamiamole così si nutrono o meglio si auto mantengono in esistenza attraverso il ci finché l'essere umano è vivo e completo fa in modo automaticamente vivendo che il suo c venga bilanciato e distribuito a tutti e tre in em e ai sette po in egual maniera ma nel momento in cui un po rimane all'interno di un corpo dove gli altri po e in em si sono ormai allontanati e ne prende completamente possesso non ha più una gestione esterna di questo mantenimento del ci imparando quindi per via istintiva ad assorbirlo da altre persone per questo facevo il rapporto col vampiro energetico a differenza di che cosa il vampiro energetico sia che sia volontario e sia che sia involontario succhia energie generiche vitali assorbendole in maniera automatica automatica gli basta a volte avvicinarsi a una persona a volte parlare con questa persona a volte la sua stessa sola presenza mentre invece per la mitologia asiatica questi jian qi assorbono volontariamente in maniera quasi vampirica tanto da essere proprio considerati una sorta di veri e propri vampiri anche perché sempre secondo la mitologia escono fuori in ore per lo più notturne o comunque serali in giornate per lo più fredde e non calde e tendono a cercare riparo dal caldo dalla luce e dal sole proprio in loculi in bare o comunque in posti nascosti e possibilmente sotterrati e umidi il perché credo sia palese a prescindere se un corpo è comunque un corpo che non ha più le funzioni per esempio temperature o a certe luci proprio perché il processo di degradazione il processo di decomposizione viene accelerato mentre invece in un ambiente semi umido in un ambiente scuro in un ambiente buio il processo e soprattutto freddo il processo di decomposizione di disgregazione cellulare rallenta e questo lo sapevano anche gli antichi c'è poco da fare anche gli antichi si rendevano conto che uno che moriva in in inverno si degradava prima di uno che moriva in estate per cui diciamo che il discorso leggendario sul fatto che però appunto si nascondessero in luoghi ameni e tendessero a uscire solo in ore crepuscolari in ore serali non a diretto contatto con la luce e che fossero comunque dei corpi morti in qualche modo tornati in vita dava questa similitudine col vampiro occidentale inoltre c'era anche la leggenda la credenza che questi jian qi nel caso in cui avessero attaccato fisicamente un'altra persona e in particolare in alcune leggende proprio morsa non sul collo ma in qualsiasi punto avrebbero attivato automaticamente come se fosse un'infezione virale ora è brutto di questi tempi parlare di virus e infezioni virali ma è questo il senso avrebbero attivato il po corrispondente a loro nella persona morsicata e questo avrebbe inciso una volta morta la persona sulla possibilità che anche quel po che si era in qualche modo un po risvegliato dalla mozzicata del compare di tornare anche lui a possedere quel corpo quindi di non uscire insieme al resto dei nem e dei po anche di quell'altro corpo anche questo era molto assimilato alle credenze invece occidentali del vampiro visto che in molte culture si sosteneva che il vampiro mordendo in qualche modo infettasse stesso discorso peraltro che si faceva anche per quanto riguardava il discorso licantropi il discorso l'icaon il discorso lupi mannari e anche il discorso zombie stesso seppur gli zombie siano stati conosciuti in tempi più moderni come cultura generale anche nel caso degli zombie nella versione più moderna quindi da partire dal 1800 in poi c'è l'alone di credenza che la morsicata dello zombie renda zombie hanno un po viralizzato tutte le creature sia quelle reali che quelle inventate lo zombie in sé è un'altra cosa ma dello zombie poi ovviamente parlerò nel video delle creature preposto per gli zombie nel caso del jian qi c'era anche una credenza relativamente più moderna nata dopo nata intorno al periodo della dinastia ching che peraltro diede anche un aspetto vero e proprio al jian qi questo perché perché fino alla dinastia precedente alla quella alla dinastia ching il jian qi veniva un po considerato appunto una sorta di vampiro succhia energie qualsiasi a zombato e buonanotte al secchio dalla dinastia ching invece iniziò a prendere forma anche un tipo di abbigliamento particolare che peraltro ricordava molto l'abbigliamento stesso proprio di palazzo della dinastia ching quindi un certo tipo di copricapo fatto a punta e con un torrione intorno e un pallino su sulla cima una tunica piuttosto lunga e maniche urlate e un pantalone sotto piuttosto allargato e sgambato questa era proprio la moda a palazzo durante la dinastia ching ma la rappresentazione del jian qi venne introdotta proprio durante la dinastia ching con quel tipo di abbigliamento un po come se la forma principale del jian qi stesso rappresentasse in qualche modo la parte nobile comunque della dinastia quindi gli abitanti di palazzo i ricchi i nobili che però non erano stati in grado di mantenere più nutriti i loro nem rispetto ai loro po quindi che avevano più vizi che pregi in poche parole e da questa affiliazione con l'abbigliamento proprio della dinastia ching e tutto gli venne dato anche il caratteristico aspetto vero e proprio dello zombie gli venne quindi inserita anche una caratteristica in più cioè la possibilità di essere bloccati fermati materialmente con degli appositi sigilli scritti su carta e poi appiccicati sulla fronte del jian qi un po come si vede anche in tanti ora non so se siete pratici di cartoni animati di anime giapponesi ma in molti anime giapponesi specialmente fantasy si vedono questi monaci che creano questi sigilli in carta con delle scritte poi li lanciano come se fossero delle armi ecco quelli striscette di carta così con i scritto sopra parole particolari che creano dei sigilli inoltre sempre nello stesso periodo cing il il rito di creazione di questo tipo di creature quindi del tipo di creatura jian qi non era più legato alla casualità di un po che rimaneva intrappolato in quel corpo e ne diventava il capo mentre gli altri sei po e i tre nem uscivano durante la morte ma era diventata prassi assoluta dei corpi non sepolti quindi siccome spesso soprattutto durante le guerre durante le battaglie moltissimi corpi non venivano né recuperati e né a volte sepolti si pensava proprio che la maggior parte di questi jian qi fossero i cadaveri gli zombie chiamiamolo così dei partiti in missione e mai più rientrati mai più tornati tanto anche da screditarne la memoria perché perché era una diretta conseguenza perché se il mio corpo ha ripreso vita perché posseduto da un po quindi da un vizio capitale significa che in vita io avevo nutrito particolarmente quel vizio capitale e quindi non era una persona bilanciata non era una persona che aveva in em quindi le parti buone le parti elevate abbastanza nutrite è molto più complessa la spiegazione ma devo dire che molte parti spiegarle nella società occidentale se non si hanno le basi della mitologia asiatica diventa complesso ho cercato di riassumere il discorso di questo tipo di creature un po perché io sono una fanatica della mitologia in generale di tutto il mondo ma poi con l'asia lo sapete io ho un amore profondo ma devo nei miei video cercare di far entrare le persone nel mondo asiatico anche come negli altri del resto ma in quello asiatico in particolare perché sono più ferrata non per altro piano piano con le ciabattine che non fanno rumore altrimenti rischio di parlare per mezz'ora per un'ora e di non far capire assolutamente nulla a chi mi ascolta perché la mentalità occidentale molte volte differisce in maniera esponenziale dalla mentalità orientale asiatica per cui bisogna comprenderla piano piano e aprire piano piano la mentalità verso le altre diramazioni questo non solo per la mentalità ovviamente asiatica ma anche quando parlo o parlerò della mitologia per esempio del sud della mitologia africana della mitologia indiana della mitologia maldese delle mitologie del sud america seppure il sud america risulti essere a occidente per quanto ci riguarda perché hanno comunque delle strutture di pensiero che esulano completamente io parlo delle mitologie non della vita odierna ma delle mitologie antiche esulano completamente dal modo europeo soprattutto di pensare e allontanano anche molto certe volte seppur abbiano dei collegamenti molto stretti dalle mitologie europee perché la cultura stessa di base era legata in certi punti ma molto molto differente in altri tanto da creare proprio uno schema che sembra quasi un equalizzatore musicale io al momento spero di aver descritto il più comprensibilmente possibile i jangshi questo tipo di creatura mixata tra un vampiro energetico un vampiro ciucciatore e uno zombie con qualche annesso anche di possessione mettiamola così e più avanti continuando a spiegare le varie mitologie le varie creature le varie entità mitologiche e folcloristiche anche del resto del mondo ritornerò su certi discorsi nel frattempo vi saluto vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i link dei social dove mi trovate un po più sotto tre o quattro degli invece millemila link che tengono in vendita i miei libri che oggi sono sei e di cui peraltro dei sei ora stanno impennando di nuova manette i due romanzi di cui ora sto scrivendo il terzo perché tutti quelli che l'hanno preso continuano a dirmi quando esce il prossimo perché essendo una trilogia la storia va avanti e in canti radicanti e di quello ne sono contentissima perché sta andando veramente ancora a manetta e quello lì io l'ho creato proprio per cercare di far comprendere ai più che si stanno buttando in riti rituali incantesimi e quant'altro e che stanno cominciando a seguire il mondo esoterico più che altro le basi principali almeno se non per imparare l'esoterismo almeno per non fare danni su se stessi e sugli altri lì ci sono proprio le prime tappe da capire da comprendere e da imparare a memoria se uno vuole fare dei riti dei rituali come farli nella maniera corretta perché se sbagli qualcosa quando va bene non succede niente è solo buttato via roba quando va male invece che aiutarti ti danneggi da solo detto questo ciao